650.000 italiani sono alle prese in questi giorni con l'influenza, secondo il bollettino dell'Istituto Superiore di Sanità attraverso InfluNet, il bollettino di sorveglianza delle sindrome influenzali, registrando un aumento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno del 380%, ben 5 volte di più. Questo lo si deve al fatto che rispetto al passato il picco influenzale risulta essere in anticipo rispetto alla media stagionale, colpendo in modo particolare gli over 65 anni e le fasce dai 0 ai 4 anni e anche tutti coloro che si sono vaccinati a dicembre inoltrato. Il virus gioca ad anticipo, quindi a farne le spese in questi giorni sono oltre ai pronto soccorso di tutta Italia, particolarmente presi di mira, compresi quelli del nostro territorio. Stamattina non siamo riusciti a parlare con il responsabile di Fano, il dottor a titolo particolarmente impegnato, anche pediatri e medici di medicina generale che si trovano a dover affronteggiare ambulatori affollati e visite domiciliari. Abbiamo continue richieste sia di visite ambulatoriali che domiciliari per pazienti che di regola hanno una semplice influenza perché grosse complicazioni al momento non le abbiamo viste, quindi diciamo che i pazienti possono stare abbastanza tranquilli. È chiaro che c'è un picco influenzale importante, non so se questo sarà il picco più alto della stagione, però comunque in questo periodo qui erano anni che non si verificava una corsa agli ambulatori come sta accadendo in questi giorni. Le Marche, ma possiamo dire sostanzialmente anche la nostra provincia, sempre secondo i dati Influnet che il Dipartimento di Prevenzione dell'Area Vasta ci ha fornito, ricalca il dato nazionale rispetto al 2015. La curva risulta essere molto più accentuata, anche se nell'ultima settimana, dal 2 all'8 gennaio, rileva un picco che sta calando. Anche l'intensità, come a livello nazionale, è passata da media nel 2015 a molto alta nel 2016 e più anticipatamente, mettendo così, secondo la stima dei dati, presumibilmente 35.000 marchigiani a letto.